Rotonde de Cartier, il fascino dell'alta orologeria. Se siete alla ricerca di un orologio che unisca eleganza, prestazioni e innovazione, allora il modello Rotonde de Cartier potrebbe essere quello che fa per voi. Il modello Rotonde de Cartier nasce nel 2006 come una collezione dedicata alle grandi complicazioni, ovvero quei meccanismi che aggiungono funzioni oltre alla semplice indicazione dell'ora. Tra queste, spiccano il tourbillon, il movimento misterioso, il calendario perpetuo, l'equazione del tempo, la ripetizione minuti e il cronografo. Il tourbillon è una delle complicazioni più apprezzate dagli appassionati di orologeria, poiché consiste in una gabbia rotante che ospita l'organo regolatore dell'orologio, bilanciare e spirale, al fine di compensare gli effetti della gravità sulle sue oscillazioni e garantire una maggiore precisione. Cartier ha saputo reinterpretare questa invenzione del XVIII secolo in chiave moderna e originale, creando diverse varianti del tourbillon, come l'astro-misterie, l'astro-tourbillon e il doppio tourbillon-misterie. L'astro-misterie è una sorprendente evoluzione del movimento misterioso, un'altra specialità di Cartier che risale al 1912. Nel caso dell'astro-misterie, non sono solo le lancette ad essere misteriose, ma anche tutto il movimento centrale dell'orologio, che compie una rotazione completa in un'ora, creando un effetto visivo straordinario. Il segreto sta in un ingegnoso meccanismo che collega il movimento alla corona di carica e regolazione, riducendo al minimo lo spazio tra i componenti e dando l'impressione di un movimento sospeso nello spazio. L'astro-tourbillon è invece una variante del tourbillon che fa compiere al bilanciare una rotazione completa intorno al quadrante in un minuto, seguendo una traiettoria ellittica. Il doppio tourbillon-misterie è infine la combinazione tra due complicazioni iconiche di Cartier, il tourbillon e il movimento misterioso. In questo caso, il tourbillon è formato da due gabbie concentriche che ruotano a velocità diverse, un minuto per la gabbia interna e cinque minuti per quella esterna, e che sembrano fluttuare nel vuoto grazie a un disco di vetro trasparente. La cassa ha una forma rotonda con una corona perlata ornata da uno zaffiro cabochon, il segno distintivo di Cartier. Il quadrante è realizzato con materiali pregiati come l'oro, il platino, i diamanti e i zaffiri, e presenta numeri romani e lancette a forma di gladio. Il cinturino è in pelle di allegatore o in materiale di origine non animale, a seconda delle versioni. Il Rotonde de Cartier Astro Misterie è il primo orologio al mondo a integrare il movimento misterioso con il tourbillon, creando una complicazione unica nel suo genere. Il Rotonde de Cartier Schelet Doppio Tourbillon Misterie è invece il primo orologio al mondo a combinare la scheletratura con il doppio tourbillon misterioso, dimostrando la maestria orologera di Cartier nella riduzione e negli integrazioni dei componenti. In conclusione, il modello Rotonde de Cartier è una delle espressioni più elevate dell'alta orologeria, che coniuga tradizione e innovazione, eleganza e prestazioni, fascino e mistero.